buongiorno amici cari volevo tra le tante cose che mi mi passano per la testa in qualche modo concordare con questa tristezza e malinconia ma comunque certo per tutte le cose che succedono e per questo governo che si burla di noi in qualche modo non riesce a prendere una decisione che sia una seria e definitiva ma al di là di questo volevo inserirmi dentro come sempre i panni di Giacomo il quale nella lettera a Brighenti che quel passo lo avrò declamato mille volte ma lo sento proprio mio dice come si possa sentire una persona di un certo tipo e per certo tipo intendo una persona consapevole capace di intendere e di volere e conoscere bene i suoi punti deboli e i pregi che ha cioè quelli della consapevolezza di essere minuscolo essere ma pensante io sto qui deriso sputacchiato preso a calci da tutti menando l'intera vita in una stanza in maniera che se vi penso mi fa raccapricciare e tuttavia mi avvezzo a ridere e ci riesco e nessuno trionferà di me finché non potrà spargermi per la campagna e divertirsi a far volare la mia cenere in aria grazie a tutti Grazie a tutti.